Oggi iniziamo un nuovo libro intitolato La Semina e il raccolto del 1956 e andiamo a vedere di che si tratta. Iniziamo con un capitolo intitolato Il capo del filo d'oro che inizia con una citazione di William Blake. Ti do il capo del filo d'oro, devi solo riavvolgerlo nel gomitolo e ti guiderà alle porte del paradiso. E rete nelle mura di Gerusalemme. William Blake In questo libro ho cercato di indicare alcuni modi di approccio alla comprensione della Bibbia e alla realizzazione dei tuoi sogni. Perché non diventiate pigri ma piuttosto imitatori di coloro che con la fede e la perseveranza divengono eredi delle promesse. Ebrei 6.2 Molti di coloro che hanno confidenza con i versetti delle sacre scritture sono scoraggiati quando cercano di leggere la Bibbia come farebbero con un qualsiasi altro libro. Perché motivo ben comprensibile. Non comprendono o non sanno che la Bibbia è scritta con un linguaggio simbolico. Non sapendo che tutti i suoi personaggi sono personificazioni delle leggi e delle funzioni della mente, che la Bibbia è psicologia piuttosto che storia, si spremono le meningi senza risultati e alla fine abbandonano. Per capire l'importanza dell'immaginario che racchiude, il lettore della Bibbia deve invece avere un'attiva e sveglia immaginazione. In accordo con le scritture, noi tutti dormiamo con Adamo e ci risvegliamo con Cristo, il che significa che tutti noi dormiamo collettivamente e ci risvegliamo individualmente. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull'uomo che si addormentò. Genesi 2,21 Se Adamo, cioè l'uomo in genere, giace in un sonno profondo, allora le sue esperienze, come sono registrate nelle scritture, devono essere un sogno. Solo colui che si sveglia può raccontare il suo sogno E solo colui che comprende il simbolismo dei sogni può interpretare il sogno. Questo passaggio è molto profondo. Solo colui che si sveglia può capire che prima stava dormendo e può raccontare il proprio sogno. E noi tutti siamo entrati in questa incarnazione e in tutte le altre precedenti non sapendo chi siamo e per cosa siamo venuti a fare, per che cosa siamo entrati nella forma. Ed essi si dissero l'un l'altro Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino quando ci spiegava le scritture. Luca 24,32 La Bibbia è la rivelazione delle leggi e delle funzioni della mente espresse nel linguaggio di quel regno impalpabile, crepuscolare, il cui tutti noi andiamo quando dormiamo. Poiché il linguaggio simbolico di questo regno crepuscolare è alquanto simile per tutti gli esseri umani. I recenti esploratori di questo regno l'immaginazione umana lo chiamano inconscio collettivo. Lo scopo di questo libro però non è quello di fornire una definizione completa dei simboli biblici o un'interpretazione esauriente delle storie della Bibbia. Tutto quello che spero di aver fatto e di avervi indicato il modo in cui puoi avere più possibilità di riuscire a realizzare i tuoi desideri. Tutto quello che da mandate nella preghiera può essere ottenuto solo attraverso il consapevole, volontario esercizio dell'immaginazione in diretta obbedienza alle leggi della mente. Da qualche parte in questo regno dell'immaginazione vi è uno stato d'animo, una sensazione del desiderio soddisfatto che, se appropriato, significa per te il successo. Questo regno, questo Eden, la tua immaginazione è più vasto di quanto tu sappia e ripaga sempre lo sforzo dell'esplorazione. Ti do il capo del filo d'oro. Tocca a te riavvolgerlo nel gomitolo. Andiamo a vedere i quattro potenti e questo capitolo inizia con un passaggio di Genesi 2.10 che dice Un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino poi di lì si divideva e formava quattro corsi. Ogni cherubino aveva quattro sembianze la prima quella di un cherubino la seconda quella di uomo la terza quella di leone e la quarta quella di aquila Ezechiele 10.14 Ecco, io vedo quattro uomini slegati che camminano in mezzo al fuoco senza subire alcun danno e l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio di Dio Daniele 3.5 I quattro potenti sono in ogni uomo William Blake I quattro potenti costituiscono l'individualità dell'uomo o Dio nell'uomo ci sono quattro potenti in ogni uomo e in ogni donna ma questi quattro potenti non sono quattro esseri separati separati l'un dall'altro come lo sono le dita della mano I quattro potenti sono quattro diversi aspetti della mente umana essi differenziano tra loro per funzione e carattere senza essere quattro separati che abitano nel corpo dell'uomo I quattro potenti possono essere equiparati ai quattro caratteri ebraici Y Age W Age Il tetragramma biblico che compone il nome di Dio che forma cioè il mistero del nome di quattro lettere del potere creativo che proviene e combina in sé la forma del passato del presente e futuro verbo essere Il tetragramma è venerato come il simbolo del potere creativo nell'uomo Io sono le quattro funzioni creative che portano a realizzare in fenomeni materiali reali le qualità latenti in ogni individuo possiamo meglio comprendere i quattro potenti comparandoli con le quattro figure e più importanti nella produzione di un'opera teatrale o di un film Tutto il mondo è un palcoscenico e gli uomini e le donne sono soltanto attori hanno le loro uscite come le loro entrate e nella vita ognuno recita molte parti William Shakespeare come vi piace atto secondo scena settima il produttore l'autore il regista e l'attore sono le quattro figure più importanti della produzione dell'opera nel teatro della vita la funzione del produttore è quella di suggerire il soggetto dell'opera lo fa sotto forma di un desiderio per esempio vorrei avere successo vorrei poter fare un viaggio vorrei sposarmi e così via per essere rappresentati sul palcoscenico del mondo però questi temi generali devono in qualche modo essere precisati lavorati nel dettaglio non è sufficiente dire vorrei avere successo si tratta di un'affermazione troppo vaga successo in cosa il primo potente non sa rispondere il primo potente suggerisce solo il soggetto la drammatizzazione del soggetto è lasciata alla originalità del secondo potente l'autore per drammatizzare il soggetto l'autore scrive solo l'ultima scena dell'opera ma la scrive in modo dettagliato la scena deve drammatizzare il desiderio esaudito sentite questa costruisce mentalmente una scena di vita il più possibile simile a quello che accadrebbe e proverebbe una volta realizzato il desiderio quando la scena è descritta nel dettaglio chiaramente visualizzata il lavoro dell'autore completato e il terzo potente nella produzione di un'opera della vita è il regista i compiti del regista sono di accertarsi che l'attore rimanga fedele al copione e di fargli provare più e più volte la parte fino a quando non gli diventa naturale questa funzione può essere paragonata a un'attenzione controllata e diretta in modo consapevole un'attenzione focalizzata esclusivamente sulle azioni che implicano che il desiderio sia già realizzato e vedete qui continua a sottolineare continuamente che la scena deve drammatizzare il desiderio esaudito e ci dice che questa funzione deve essere paragonata un'attenzione controllata e diretta in modo consapevole un'attenzione focalizzata esclusivamente sulle azioni che gli implicano che il desiderio sia già realizzato l'aspetto del quarto è simile a quello di un figlio di Dio è l'immaginazione umana l'attore questo quarto potente compie dentro di sé nell'immaginazione l'azione predeterminata che implica la realizzazione del desiderio questa funzione non visualizza o osserva l'azione questa funzione in realtà mette in scena l'opera e lo fa più e più volte fino a quando esso non assume i toni della realtà vedete anche qui come sottolinea il fatto che bisogna farlo più e più volte fino a quando fino a quando non assume i toni della realtà fino a quando non diventa familiare fino a quando non è impressa nella tua mente soggettiva questo quando è impressa nella nostra mente soggettiva fa parte già è già un ricordo per noi quindi fa parte già dei nostri ricordi e anche la sensazione fa parte già dei nostri ricordi ecco perché è molto importante ripassare fino a quando non assume i toni della realtà senza la visione drammatizzata del desiderio realizzato il soggetto o desiderio resta un mero desiderio e dorme per sempre nei vasti cassetti dei desideri mai realizzati o mai nati e senza l'attenzione focalizzata cooperante e obbediente alla visione della messa in scena del desiderio realizzato la visione profillata non raggiungerà la realtà oggettiva i quattro potenti sono i quattro quadranti dell'animo umano il primo è il re Geova che suggerisce il soggetto il secondo il servitore di Geova che fedelmente fa scarturire dal soggetto una visione dettagliata il terzo è l'uomo di Geova attento e obbediente alla visione del desiderio realizzato che riporta l'immaginazione vagabonda a concentrarsi sul copione 70 volte 7 l'aspetto del quarto è Geova stesso che mette in scena il soggetto drammatizzato sul palcoscenico della mente abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù il quale pur essendo in forma di Dio non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente Filippesi 2 5 6 il teatro della vita è uno sforzo congiunto dei quattro quadranti dell'animo umano tutto ciò che vedete tutto ciò che appare fuori è sui dentro nella vostra immaginazione di cui questo mondo mortale non è che un'ombra William Blake tutto quello che vediamo che ci appare nella realtà è una costruzione visiva premeditata e appositamente creata per esprimere un soggetto un soggetto che è stato drammatizzato provato ed eseguito altrove quello a cui assistiamo sul palcoscenico del mondo ogni fatto o evento reale oggettivo è una costruzione visiva concepita per esprimere i soggetti e i desideri che sono stati drammatizzati provati ed eseguiti nell'immaginazione nella mente degli individui i quattro potenti costituiscono l'individualità dell'uomo o Dio nell'uomo e tutto ciò che l'uomo sorge che gli appare davanti agli occhi che costruisce la sua vita reale non sono altro che ombre proiettate sullo schermo dello spazio-tempo costruzioni ottiche elaborate dalla sua individualità che lo informava in merito ai soggetti desideri che ha concepito drammatizzato provato ed eseguito lui stesso in sé stesso la creatura è stata sottoposta alla vanità affinché essa possa prendere coscienza del proprio sé affinché con la coscienza del proprio sé della propria individualità e delle sue funzioni possa agire per uno scopo possa avere una storia consapevolmente autodeterminata senza la coscienza e gli agisce inconsciamente e grida Dio anonimo affinché lo salvi della sua stessa creazione fino a quando griderò Signore senza che tu mi dia ascolto io grido a te violenza e tu non salvi Abba Cuc 1-2 quando l'uomo scopre che la vita è un'opera che lui stesso sta scrivendo consciamente o inconsciamente egli cesserà di essere cieco di torturare se stesso e di eseguire i giudizi e volontà degli altri al contrario riscriverà la sua opera affinché essa si conformi al suo ideale perché si renderà conto che tutti i cambiamenti nella realizzazione dell'opera provengono dalla collaborazione dei quattro potenti che è a dentro di sé solo loro possono modificare la sceneggiatura e generare il cambiamento tutti gli uomini e tutte le donne del mondo sono solo attori della vita e sono incapaci di cambiare l'opera così come gli attori di un'opera teatrale sono incapaci di cambiare gli elementi della scenografia il cambiamento desiderato deve essere concepito immaginato drammatizzato provato ed eseguito nel teatro della mente quando la quarta funzione l'immaginazione ha completato il suo compito di provare e riprovare il copione dell'opera fino a quando non diventa naturale allora il sipario si alza su questo mondo così apparentemente solido e il quarto potente potrà gettare un'ombra della vera opera sullo spazio del palcoscenico a quel punto in modo automatico gli uomini e le donne reciteranno le loro parti per portare a compimento il soggetto drammatizzato gli attori in virtù dei loro vari ruoli nell'opera della vita del mondo diventano rilevanti per il soggetto drammatizzato del singolo individuo e poiché rilevanti entrano a far parte dell'opera reciteranno i loro ruoli credendo per tutto il tempo di essere stati loro stessi gli ideatori del ruolo che interpretano fanno questo perché tu o padre sei in me e io sono in te io in loro e tu in me Giovanni 17 21-23 io sono coinvolto nell'umanità noi siamo uno tutti stiamo recitando le quattro parti del produttore dell'autore del regista e dell'attore nel teatro della vita alcuni di noi lo stanno facendo consapevolmente altri inconsciamente è necessario che lo facciamo consapevolmente solo in questo modo possiamo essere certi di un finale perfetto per la nostra opera perciò il nostro copione adesso è capire perché dobbiamo prendere coscienza delle quattro funzioni del solo unico Dio che è dentro di noi affinché possiamo godere della compagnia di Dio come i suoi figli l'uomo non deve rimanere un uomo deve diventare un essere più elevato perché Dio solo gli Dei accetta come compagnia Angelus Silessius allora io mi fermo qui e domani partiamo da qui ciao a tutti grazie a domani ciao ciao